allora Enzo le cinque arnie critiche ho aggiunto dello sciroppo comunque l'avevano già mangiato tutto secondo me hanno ancora tanta fame perché non riescono a raccogliere ancora molto speriamo comunque miele ce n'era nelle arnie di conseguenza non credo che soffrano la fame come tante altre va bene ciao Enzo a presto ci sentiamo ciao ciao